TAN 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 TANしま TAN 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 Siiii! Well world, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Cristina K.A.L.I.C.I.S. Ciao! Oggi andremo a truccarla! In questo momento è uscito, o comunque tra qualche minuto, uscirà un video sul suo canale dove lei mi ha truccato. Piuttosto traumatico. Adesso avrò la mia vendetta! 50.000 mi piace per un prossimo video In compagnia di chi sei te Ma chi te conosce ma chi te vuole Esci dal mio canale Per favore vai via dal mio canale Quanta prepotenza che ci sta in giro E mi raccomando se volete anche degli eventi Insieme fatecelo sapere con un commento Qua sotto e in quali città Soprattutto ci sono qua sotto in descrizione I link ai nostri profili di instagram Perché ci piace un casino fare le foto Penso che lo abbiate capito Oggi me sta sul cavolo Non riesco a capire perché Sei urtante E che ce devo fare questa busta Non ti trucco più Non voglio vedere che fai Se non mi trucchi entro 5 secondi E la maglietta bianca Non puoi fare niente Non puoi fare niente Staccate Ma perché ti avvicini così tanto Che vuoi in bacino Non sta chiudendo va bene Fa la brava bimba che sei Dai che me sporchi Di seria questa nuova Ma perché te sei messo a sto coso da quanta dima Perfatti Perfatti Non sai parlare Comprati un dizionario di latino Mamma mia che urpo E non ti dice che me ti metti così Non te lo do il bacio Ma non lo voglio Ti voglio urlare in faccia Metti così come se volessi in bacio Non lo vorrò mai da te il bacio Non mi spudi Vedi che mi spudi Meglio che ti sto lontano Ciao Ciao La porta è quella Ciao Arrivederci E grazie Buona giornata Sì con te poi Ah pure Avete mai visto Death Note Ve lo sconsiglio Quanto sei polloso È una merda No non è vero È bellissimo Death Note È il mio anime preferito Però per lei dico che è una merda Così almeno si irrita Che fai a dici Favoloso Volevo spoilerare tra virgolette Un progettino che io e questa tipa stiamo portando avanti già da un po' di tempo Lo vedrete a gennaio Possiamo darvi Qualche indizio Diciamo due Due qua e due nel mio video Allora il primo indizio Aereoplano Il secondo indizio Ere E R E H Chi vuole capire capiscia Ma ti devo truccare? Fai te Faccio io? Sì Ma faccio io? Eh se c'è la busta Ti devo truccare? Mi devi truccare? Ma quella busta? Ma veramente mi ducchi te E io ti trucco? E quella busta? E ti devo truccare? Sì Ma io ti devo truccare a te No già mi duccado Ma io ti devo truccare? Sì E mi devi truccare? Sì E io? Ma io ti devo truccare? Ma io ti devo truccare? E io ti devo truccare? Oddio Dammi sta busta Fanno sta cosa Con un maglione bianco E con vicino Cristina Che mi lasciava un pacco E una posta su Whatsapp Aveva la cotta Per Art Attack Giovanni Mucciacci Giovanni Mucciacci Ciao a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovo video tutorial Su come truccare delle cesse Allora dovete prendere Una cessa Poi tanti trucchi E inizia il divertimento Anthony Stai rotta la busta Anthony Vabbè pietra per terra Che cos'è questo? Un tablet? Ah questo è l'acquarello Un altro acquarello Partiamo da Questa cos'è? Questa non l'ho mai usata Davvero? La utilizzeremo per la prima volta Quest'oggi Sporcato però Prendi un pennello No io la metto sul dito Cioè un po' di Nutella Sulla punta del naso Una maschera di sabbia Di bellezza È rilassante Questo magnifico arnese Che si chiama? Pennello E spennelliamo il tutto Ma io questo l'ho usato per un'altra cosa E oggi lo utilizzerai per questo Capiti? Devi sbagliare Adesso Non devi avvicinare così tanto Ma sai che ti sei avvicinati? Sei immobile Vabbè poi prendiamo questo pennellino E lo infiliamo nell'occhio Direttamente C'è un colore viola Molto acceso Come si suol dire Prendiamo tanto viola Ne prendete proprio assai Ne prendete tanto Spennellate Come non avete mai spennellato Nella vostra vita Oh non ho infilato le dita Ne ho orecchie E poi Prendete la testa della tipa E gliela mettete sulla bocca Così tutto viola Come se gli avessero dato Un pugno Dritto in faccia Anzi che dico Sulla bocca Quindi ecco Mettete così Accuratamente Accuratamente Sul collo Ah sul collo? Ok No me lo stai mettendo sul collo Mettiamolo anche un po' sul collo Va bene sul collo Poi improvvisamente Questo l'ho gettata a terra Insieme a tutto questo Poi prendete un cuore Mega galattico No? Questo è un cuore Ma che c'è sotto? E lo mettete in fronte proprio Gli ho spalmate per bene In fronte Vediamo il risultato Così E all'improvviso Oh mio dio Ma è un fernoccolo Allucinante ragazzi Un fernoccolo No 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 Poi prendete Il pennellino Che utilizzavate All'elementare Per fare l'acquarelli Date una Bella Strucinata Ma devo Scrivete Sulla fronte Della cessa Sono Una Cessa Che poi tra l'altro Ha fatto pure il tutorial Come diventare Belle Storia di un'ex Cessa Ma chi te credi Da essa Ciccia Ma fammi il favore Ma piate sto cuore Ciao Questo non lo volevo fare Imprevisti Dammi la faccia Mettiamo un po' di Contouring Diciamo che dà Un effetto Dà un po' Un effetto ondulato Quindi automaticamente Allora Mettiamo una sfumatura Poi questo Deviamolo dal cazzo Perché fa cagare Quindi Allora Mettiamo dei capelli Un po' Diciamo alla cazzo di cane Ma io non sono stata Così cattiva E rendiamo un effetto Già mai trattato male Nell'altro Allora aspetta Mettiamo un effetto Ecco Un po' ondulato Così Vedete Adesso è perfetta È pronta Sei pronta Per andare a sfilare Tesoro Sei bellissima Sei un amore Un bijou Voilà La Paris La Torre Eiffel Le voilà Le bien sûr Le les enfants Le partisse Le sbas Basta No il maschera Già ce l'ho Però almeno quello Ah si Questo potrebbe andare Anche sulle labbra Va a vedere tesoro E diventa tipo Rossetto Total Black Ed ha quell'effetto delicato Che soltanto un Total Black Può dare Ecco fatto Sei una ciminiera tesoro Ma che te ridi Sei bellissima Sei un carboncino No no Sulla maglietta bianca No 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 Che Che va Oh io voglio 61.000 like Ce la facciamo ad arrivare Se arriviamo a 60.999 Ce rimango male Ok gente Per cui Questo era il video Questo è il risultato Sono un cesso Passate anche sul suo canale Link qua sotto in descrizione Andate a vedere il video Che abbiamo registrato Appunto sul suo canale Noi ci rivediamo Con un prossimo video Bella Ciao gente Ah comunque Il prossimo video Che vedrete su questo canale Sarà Non spoilerare Qui